eccoci di nuovo qui per ricordare quell'anno speciale per noi giocatori per la tonno calipo e per tutta la gente che ci ha seguito il periodo che ci avvicinava la partita ognuno di noi giocatori l'ha vissuto in modo direi esclusivo io per quel che riguarda me ricordo di aver voluto stare più a contatto possibile con i miei amici di Vibo quindi tutta la settimana ho cercato di viverli il più possibile quindi nutrirmi un po' della loro energia che avevano rivolte alla partita alle aspettative che la gente del posto aveva quindi colgo l'occasione anche per salutare di nuovo ancora tutti tonno calipo ce l'ho sempre con me e porto ricordi che non dimenticherò mai